Schiacciala! Blaze, sta eruttando! Schiacciala! Blaze, sta eruttando! Mi sa che non sarà una corsa facile! Ti piace l'universo? A me tanto! Sapete, io mi sono sempre chiesto come sia l'universo. Se volete posso mostrarvi l'universo. Con il mio telescopio! Oh, un vero telescopio! Vuoi vedere anche tu cosa c'è nello spazio? Certo, anch'io! Andiamo!